Oggi faremo chiarezza sul corretto utilizzo della candeggina delicata e ti darò alcune indicazioni sul come utilizzarla per sfruttarne al meglio le proprietà. Cominciamo subito. Da qualche anno a questa parte si è fatto un gran parlare e pubblicizzare la candeggina delicata. Sono usciti i video su TikTok dove fanno vedere che la si usa per pulire i mobili, per pulire i pavimenti, per pulire il bagno. Ma quali sono i suoi poteri? Ed è davvero corretto utilizzarla per tutte le pulizie. Partiamo col dire che la candeggina delicata che acquistiamo è composta da tensioattivi che sono delle sostanze che contengono delle molecole in grado di far miscelare due liquidi che senza di essi sarebbe impossibile miscelare come ad esempio l'acqua e l'olio. Ho fatto un video sui tensioattivi chimici e naturali dove ti spiego alcune curiosità sui detersivi. Ti lascio il link in descrizione. Dicevo che la candeggina delicata prodotta industrialmente è composta da tensioattivi e per ossido di idrogeno che altro non è che l'acqua ossigenata. Quindi serve per igienizzare il bucato e può essere utilizzata anche per i capi colorati e sui tessuti delicati come la lana e la seta. Ma attenzione! Non mettete subito nella lavatrice la candeggina delicata insieme al detersivo perché ossida gli enzimi contenuti nel detersivo vanificando nell'azione pulente. L'ideale è aggiungerla alla lavatrice dopo una ventina di minuti dalla partenza del lavaggio. Quindi va benissimo per igienizzare il bucato ma si può utilizzare per le altre superfici della nostra casa? Sì possiamo utilizzarla per quasi tutte le superfici evitando il marmo o le superfici metalliche perché le rovinerebbe. Ma vale davvero la pena di utilizzarla? Te lo spiego subito. Il tempo di azione dell'acqua ossigenata è un tempo molto lungo che non è compatibile con una pulizia normale di casa. Quindi in pratica l'azione pulente della candeggina delicata sulle superfici è data solo dai tensi attivi contenuti in essa e non dall'acqua ossigenata. Altra cosa, candeggina classica e candeggina delicata hanno composizioni totalmente diverse. La prima agisce alle basse temperature e la sua azione viene meno quando si utilizza con le alte temperature. Quella delicata al contrario agisce meglio alle alte temperature. Quindi liberissimi di utilizzarla per pulire le superfici di casa ma è uno spreco. Inoltre per esperienza personale ti dico che è abbastanza difficile da risciacquare e lascia dei fastidiosissimi aloni se non la si sciacqua perfettamente. Ovviamente se andrete a cercare informazioni sugli utilizzi della candeggina delicata i produttori e chi fa loro pubblicità vi diranno che la si può utilizzare per tutto ma è solo una questione di marketing. In ultimo non so se vi siete accorti anche voi ma quella della marca più famosa è aumentata di prezzo in maniera spropositata. Io ho testato e ne ho provate altre meno blasonate ma molto più economiche e vi garantisco che l'efficacia è la stessa ma il prezzo è ben più basso. Spero come sempre di esserti stata utile. Se vuoi supportarmi e continuare a guardare i miei video non dimenticare di iscriverti e lasciarmi un like. A presto! Ciao!